Questa è un'iniziativa che chiamiamo Italia Semplice, più diritti affinché un cittadino possa avere risposte certe ed immediate da parte della pubblica amministrazione. Dobbiamo sburocratizzare e semplificare questo Paese. Chi vuole iniziare un'attività rischiando col proprio capitale per dare posti di lavoro ha il diritto di avere risposte immediate e sapere se può farlo, così come chi deve investire dall'estero. La nostra iniziativa legislativa seria con la quale ci confronteremo all'interno della maggioranza e con chi vorrà condividere questo importante obiettivo, semplificare, semplificare, semplificare.